Bentornati a tutti, non vi rieverone, oggi sono qua per portarvi il video per quanto riguarda la VPN su Warzone andremo a vedere tutti gli aspetti della VPN, infatti è stratta da una mia live su Twitch dove tutti mi potevano fare domande a riguardo, ve l'ho mostrata, vi ho fatto sapere tutto quello che so riguardo le VPN quindi ho risposto a tutte le domande possibili da immaginare qua sotto dovrei mettere una timeline per più o meno tutti gli argomenti, tutte le domande e le FAQ generali riguardanti la VPN questo video vuole essere completamente informativo e trasparente a riguardo dell'argomento su un aspetto che comunque al di là che vi piaccia o meno fa parte del videogioco ovvero Warzone quindi voglio essere più trasparente possibile, insegnarvi tutto quello che so e trasferirvi le mie conoscenze quindi in questo video scoprirete praticamente tutto quello che so e risposto probabilmente al 100% delle domande che vi potreste porre riguardante la VPN, quindi come si usa, quando si usa, perché si usa, perché non è giusto usarla perché è giusto usarla, perché una squadra del Real Madrid dovrebbe giocare contro i pulcini dell'Albino Leffe e così via, tutto quello che viene scritto su TikTok, YouTube eccetera eccetera è risposto in questo video quindi con calma, è lungo, lo so, se avete lo sbatti di guardarvelo lo trovate qua ve lo potete guardare anche in più manche, facciamo un avvenone, ciao a tutti parliamo di VPN, iniziamo un po' il discorso, vi spiego quali sono, quali non sono, perché si usano, perché non si usano quali sono adatte per Warzone, quali non sono adatti per Warzone e tutte le varie tipologie di VPN che ci sono allora voglio spiegarvi, intanto voglio suddividere in due macro, in due categorie le VPN, ok le VPN domestiche, ok, e le VPN per Warzone queste due hanno di differenti caratteristiche, ok allora partiamo da VPN domestiche, quali sono le VPN che io definisco domestiche Express, Severghost, NordVPN, Surfshark e poi invece vi dico quali sono le VPN adatte per Warzone allora io ne prendo due in esame e poi vi spiego le differenze ad esempio NoLag e SBMM Off, ok queste sono le due VPN più utilizzate per Warzone che servono per Warzone, ok quindi che sono VPN pensate per Warzone ora partiamo dalle VPN domestiche le VPN domestiche sono pensate per un uso da casa, ok quindi usarle per navigare su internet, quindi per nascondere la propria posizione per un discorso di sicurezza magari ampliare la propria bacheca di Netflix per esempio io sono in Italia, voglio vedere il Netflix britannico e per vedere il Netflix britannico mi connetto a un server in Regno Unito di modo tale che a Netflix compaglio dal Regno Unito ma in realtà sono ancora in Italia e posso utilizzare Netflix dall'Italia con i vari film di Netflix del Regno Unito, ok per cosa possono servire queste VPN per Warzone? possono essere utilizzate al fine di spostare la nostra locazione geografica in un altro server vi faccio un esempio dal server europeo passare magari a quello africano passare magari a quello americano di New York eccetera eccetera quindi proprio giocare in server diversi dal nostro, ok quindi proprio il gioco quando io entro in gioco lui mi rileva il cambio geografico ed inoltre il mio ping ne risente quindi io ho un cambiamento effettivo del ping perché mi vado a connettere a un server diverso rispetto a quello mio quindi io che sono di Firenze di solito mi connetto al server di Firenze se metto New York mi connetto al server di New York e il ping varierà in base a quello ad esempio se io gioco su un server americano all'incirca il ping dovrebbe essere sui 120-130 poi dipende ovviamente dalle coste quindi c'è East Coast o West Coast il cambiamento della regione geografica a cosa serve? serve a sfruttare i server dove in genere ci sono persone mediamente più scarse, ok? questa cosa in realtà con le VPN domestiche non funziona funziona poco può magari funzionare su qualche server di Express ad esempio però il 90% di questo intento ovvero di trovare delle lobby più facili in genere non funziona sulle VPN domestiche perché queste VPN vi cambiano proprio la locazione geografica ma non sono ben studiate cioè non sono studiate per quello, ok? lo potete utilizzare su Warzone ma non funzionerà mai quanto una VPN è pensata a Warzone, ok? le VPN di Warzone invece che sono principalmente NoLagVPN e SBMM Off invece sono studiate per fare... per trovarvi delle bot lobby come fanno a trovarvi queste bot lobby? praticamente appunto come vi ho detto prima ma cambiate qua cambiate proprio la locazione geografica e vi connettete direttamente a quei server quindi se io metto New York vado a New York letteralmente quindi ho 120 di ping queste VPN non vi cambiano invece il ping il ping vi rimane costante come lo avete in Europa identico, non cambia nulla ma la vostra locazione geografica cambia la locazione geografica perché cambia ma il ping non cambia? perché queste due VPN illudono il gioco di aver cambiato la locazione geografica ma non lo fanno di conseguenza cosa succede? questa illusione vi permette di entrare nei server europei classici server europei cambiando la locazione geografica applicano solo le regole dell'SBMM ovvero della creazione della lobby quindi ogni volta che io creo una lobby si crea in base all'abilità di un player quindi io lancio una partita in base alla mia abilità lui mi maccerà con gente più o meno del mio livello oppure più alta del mio livello principalmente su questo gioco qua quando tu superi all'incirca ovviamente questo è proprio un numero buttato lì in realtà non è proprio così però butto un numero per darvi un numero se voi avete sopra l'1 e 15 di KD ok? 1 e 10 fate anche 1 ok? se voi avete un KD positivo per il gioco voi siete pari a un pro player se voi avete praticamente voi avete l'SBMM identico a me che io ho 4 o 3 o 2 e mezzo o 1 con 5 o 1 con 6 e sopra l'1 di KD all'incirca le lobby sono tutte uguali più o meno se avete 1 di KD dovreste trovare più spesso lobby facili rispetto a me ma a grandi linee le lobby sono le stesse questo questa VPN annulla questo fatto quindi rende le regole dell'SBMM non cioè non le fa attuare cosa crea ciò? crea il fatto di trovare delle lobby totalmente randomiche cioè delle lobby completamente a caso ci potete trovare dentro gente fortissima come potete trovarci gente scarsa qual è il punto però? perché si perché con la VPN si trovano più spesso lobby bot rispetto alle lobby forti ok? che poi dipende dalle fasce orarie la mattina si trovano più facilmente le lobby bot la sera se ne trovano meno perché c'è più gente che usa la VPN contemporaneamente a questi discorsi ci arriveremo essendo la maggior parte delle lobby globali le lobby sono la maggior parte sono lobby scarse ok? le lobby difficili sono una minoranza voi non ve ne rendete conto probabilmente per chi è scarso non se ne rende conto di essere una lobby scarsa per lui sono tutti forti o sono del suo pari livello chi è forte se si trova in una lobby scarsa vede la differenza se io metto la VPN su dieci partite di norma trovo una lobby più facile del solito in realtà col fatto che sono uscite le ranked è un po' cambiato questo fattore perché da quando sono uscite le ranked la gente forte gioca principalmente ranked quindi nelle lobby normali non trovi gente fortissima la sera ad esempio invece le lobby sono più toste rispetto ad esempio la mattina o il pomeriggio ma se uso la VPN se io in genere trovo magari due partite su dieci facili con la VPN ne troverò tipo sei sette otto numeri a casa magari la sera ne troverò quattro di lobby facile la VPN ne troverò zero senza la VPN quindi insomma è una roba di statistica con numeri buttati lì perché non possiamo fare una statistica vera e propria perché cambia in qualsiasi momento meglio la VPN o la GoFast la GoFast non è una VPN non funziona non è una VPN non c'entra nulla con la VPN la GoFast raga non c'entra nulla lasciatela perdere la GoFast è proprio totalmente una cosa completamente diversa da una VPN la GoFast il KD non è un vero indicatore delle capacità del player il gioco diciamo ti dà un punteggio a grandi linee ti dà un punteggio tipo da 1 a 5 per farti un esempio ora non so quali siano esattamente i valori però il gioco ti dà un punteggio da 1 a 5 in base alle kill che fai in base anche al tuo KD in base anche a come ti muovi nella mappa se salti se non salti se fai dropshot se sei le meccaniche il gioco è già è molto più intelligente di quanto pensiamo in questo in questo senso quindi ti assegna una sorta di punteggio tra virgolette e il tuo KD non è non è l'unico fattore e può essere anche molto forte avere tipo 1 e mezzo 2 di KD per avere il KD alto bisogna essere costanti ci sono più variabili anche usare la VPN ti permette di avere un KD più alto però come vi dicevo un player da 1 e 10 di KD più o meno ha le stesse lobby di 1 o di 5 quanto costano la VPN? costano ci sono VPN gratuite che io sappia VPN gratuite non ce ne sono se ci sono non credo siano buone se ce ne sono di buone scrivetemelo pure nei commenti di YouTube o scrivetemelo su Twitch o scrivetemelo dove volete che ne argomentiamo però che io conosco su WPN che io conosca non ci sono WPN gratuite tutte le WPN sono a pagamento ci sono vari prezzi ad esempio queste sono che ne so Avas WPN queste sono WPN domestic e qua tutte le hanno le loro offerte i loro prezzi ok? quindi queste ve li potete guardare tranquillamente dai vari siti queste come vi dicevo hanno parzialmente senso ora vi spiego perché e queste invece sono per Warzone quando è che una WPN domestica può essere utilizzata come ad esempio Express Express è una delle WPN più utilizzate per Warzone perché? allora può essere utilizzata per trovare delle bot lobby ci sono dei server che funzionano onestamente io non l'ho mai provata e però comunque alza il ping quindi perdi di qualità ovviamente di gameplay quando giochi però ci sono dei server che possono funzionare per trovare delle bot lobby perché funzionano che ne so c'è tipo Kenya realmente ti sposti in Kenya quindi il tuo ping si alza ok? Express VPN in modo sensato viene utilizzato o anche tutte le altre normali quando tu dall'Europa passi nei server americani perché giochi Ranked allora nelle Ranked apriamo la parentesi Ranked nelle Ranked non funziona la VPN cioè le VPN di Warzone non funzionano l'SBMMF e no lag perché non funzionano? perché le lobby delle Ranked sono pochissime infatti il tempo in cui tu pegni a trovare una lobby è molto lungo di conseguenza ci sono pochissime lobby quelle pochissime lobby sono popolate solo da 3yarder di conseguenza non funzionano le VPN cioè SBMM off e no lag anche se ti levano le SBMM non funzionano perché l'unica lobby che si genererà nel corso di 5 minuti è una e quindi troverai sempre 3yarder nelle Ranked non troverai mai lobby facili nelle Ranked sì in base all'orario ci sono meno persone forti eccetera eccetera di conseguenza troverai delle lobby più facili anche le Ranked ma non con la VPN cioè la VPN non serve a niente la VPN e il Ranked non funziona per fortuna infatti è comodo perché più o meno giochiamo ad armi pare tranne con gli americani che la media americana è più scarsa nelle Ranked la notte in Europa non si trovano lobby in certi orari tipo nella fascia oraria 6-7 7-8 le lobby sono veramente rare cioè ci sono delle volte in cui non trova 150 persone con cui fullare una lobby questa cosa può essere ovviata utilizzando ExpressVPN oppure anche SBM Off oppure SBM Off è una roba un po' più particolare ne parleremo dopo è Surfshark NordVPN CyberGhost e Avast possono essere utilizzate per andare su New York Express credo sia quella che funziona meglio infatti è anche la più cara perché mantiene un ping buono perché comunque quando tu passi sulle lobby americane fai 120 di ping le lobby americane in VPN in Ranked sono un po' più facili di quelle europee ma il problema delle lobby americane ovviamente quando giochi con 120 di ping nelle ranked americane è che comunque la gente sa sparare c'è un frontale contro un americano che sa sparare lo perdi nelle lobby americane in ranked perché comunque le ranked si sono più facili ma te sei con 120 di ping per cui a grandi linee compensi non è che sia un grande vantaggio andare nelle lobby americane però magari in qualche orario in cui non potresti giocare tu hai questa soluzione per giocare può essere utile usare una VPN domestica per andare a giocare nei server americani spiegato come funzionano le VPN normali le VPN domestiche spieghiamo la differenza tra no lag e sbm off sbmm off queste sono le due più utilizzate le due più affidabili ce ne sono delle altre ve le cito se volete argomentare su quelle onestamente non l'ho mai provate però comunque ve le cito c'è sweat vpn c'è agent vpn ci sono altre vpn insomma che funzionano come sbmm off e no lag non le conoscono l'ho mai provata e quindi non vi so dire la mia ora no lag contro sbmm off ok quindi tra le due se hai una connessione bassa funziona lo stesso la vpn oppure no allora se tu hai una connessione bassa e usi una vpn per wordzone di queste non ti cambia nulla perché la connessione che ti attacca ai server è la stessa di casa tua non cambia nulla a grandi linee le due vpn hanno la stessa funzione ok trovare lobby bot queste due vi faccio vedere ad esempio sbmm off sbmm off è quella più completa secondo me perché questa vpn è un po' più completa rispetto alle altre connettersi a dei server che vi permettono di raggirare l'sbmm come ad esempio kenya kenya 2 voi cliccate su kenya fate connect vi connettete alla vpn ci sono anche due opzioni open e strict mi hanno detto che da strict cambia qualcosa open onestamente non ve lo so spiegare precisamente sta roba qua di open e strict la differenza però con strict funziona meglio in una maniera open funziona meglio in un'altra fatto sta che comunque ti condetti a kenya e dovresti trovare i lobby più facili a questo punto io sono pronto per entrare in partita e e niente quindi sono pronto a trovare i lobby più facili del solito e stessa cosa posso fare con un lag sbmm off ha anche il geofence il geofence invece è proprio cambio di location quindi da vpn solo per warzone quindi che mi trovo a bot lobby posso cambiare posizione geografica ok quindi ad esempio andare nella costa est dell'america nella costa ovest dell'america negli uk in francia in europa in germania in in olanda e in texas quindi in medio in medio usa ok quindi ho tutte le tipologie di server usa e alcune tipologie di server europa quindi questo perché perché ovviamente vengono utilizzate sia in america sia in europa queste vpn qua quindi ti danno entrambe le scelte tutti i server quindi tu con questa vpn puoi sia fare vpn normale quindi per trovare solo bot lobby sia geofence quindi trasferirti altrove no lag invece come funziona no lag fa la stessa roba ok ma non fa la parte appunto di geofence quindi ti trova solo bot lobby e ti da dei server da scaricare da mettere all'interno di un programmino vi ho fatto già un video su youtube a riguardo di no lag onestamente mi fa un po' fatica farvela vedere di nuovo comunque se volete intanto per quelli youtube li metterò il linkettino per voi di twitch ve lo potete recuperare in qualsiasi momento fatto sta che gli mettete dei server in pasto e la utilizzate in generale no lag per mia esperienza è quella che ho utilizzato un po' di più è quella più semplice da settare è quella che costa meno è quella più economica da utilizzare per una volta per un mese costa 7,90 con il 39% credo che se usate il mio sconto link in descrizione oppure punto scena di VPN in chat ci avete altri sconti tipo 60% sull'annuale una roba del genere fatto sta che praticamente per il primo mese è quella più comoda se la volete provare una volta se invece volete comprare una VPN che vi duri e che volete usarla in un anno ok sbmm off è un po' meglio perché avete il la comprate costa tipo 50 euro sì 50 spaccati tra l'altro anche quella c'è ovviamente il codice se qualcuno la volesse comprare non siete obbligati a comprarla faccio questo contenuto per divulgazione e se qualcuno vuole usare la VPN e la vuole provare dopo provare io ci prendo anche una commissione quindi win win siamo tutti contenti c'è anche il codice per questo non mi ricordo se ci sono sconti se lo utilizzate da me fatto sta che spendete un cinquantino e questo è lifetime quindi la comprate a 50 euro avete sia geofence sia VPN uguale a non lag VPN e costa un lifetime quindi per sempre 50 euro ok? quindi questa è molto più comoda la console non lo spiegherò oggi magari lo spiegherò nel video che uscirà riguardo le VPN però oggi non tratterò le console tutto ciò che è PS5 PS4 Xbox non non sono studiato devo studiarle quindi datemi qualche giorno vi pubblico il video con tutto quello che vedete oggi in live più la roba di console perché console non ho studiato quindi ci sono questi due preziari questa no lag che è comoda soprattutto se la volete usare il primo mese questa che è più completa e se la volete se volete usare la VPN all time però è su warzone basta non è una VPN che vi dice che potete usare su altri giochi credo la roba del geofence è molto comoda come vi ho spiegato prima è una roba di nicchia per chi fa ranked principalmente del geofence non credo funzioni in generale ok quindi non lo so per chi dice voglio avere una VPN che mi assicura che funziona per sempre sbm off molto comoda voglio provare la VPN e voglio vedere se mi funziona no lag VPN ora chi è che può utilizzare una VPN qua no lag VPN fa una spiegazione molto intelligente secondo me e ci viene incontro loro con la loro descrizione quando è che dovresti utilizzare no lag VPN il tuo kd è superiore a 060 o il tuo kd settimanale è superiore a 1 ok vivi in nord america o in europa ti piace macinare kill e vittorie e vuoi divertirti alla grande con i tuoi amici su warzone o modern warfare perché non dovresti utilizzare no lag o comunque svmm off vuoi guardare contenuti limitati nella tua zona come netflix sr hbo in quel caso usate una vpn standard una vpn domestica come vi dicevo prima ok e il tuo kd è inferiore a 060 quindi l'sbmm è già a tuo vantaggio ciò significa che tu sei banalmente scarsetto e quindi non ne puoi approfittare non ne giovi a usare l'sbmm cioè usare no lag vpn o svmm off vivi in una zona isolata allontana da tutto quindi non otterrai alcun vantaggio cambiando la tua posizione questa è una roba proprio geografica quindi vivi in australia vivi in fondo al mondo quindi questo non è una cosa che vi riguarda in italia ovviamente va bene qualsiasi posizione anche se abitate sull'etna va bene uguale quali server utilizzare i primi quelli più in alto su svmm off kenia e nigeria credo funzionino bene basta credo poi magari ve lo ve lo scrivo perché io le ho provate poche volte raga come vedete in live io ve le faccio sempre vedere quindi ad esempio il messaggio di taleban 88 no lag non funziona sempre ti trovo a bot lobby ogni 10 partite io ti dico che dipende dall'orario io che so giocare per me mi trova 8 bot lobby su 10 però dipende anche dall'orario perché se la provi la mattina 8 su 10 sono bot oggettivo dal mio punto di vista per te che sei magari un pochino meno bravo di me probabilmente immagino non per darmi delle aree ma penso sia perché gioco 8 ore al giorno quindi penso di poterlo dire è probabile che magari ti si accorcia ovviamente questo 8 su 10 in magari un 4 su 10 quindi più siete bravi più ovviamente vedete differenze meno siete bravi meno vedete differenze ma la cosa effattuale è che la media delle lobby è più bassa se voi fate un censimento e vi controllate in una sera senza VPN nella stessa fascia oraria e una sera con la VPN nella stessa fascia oraria vedrete che bene o male farete più kill nel periodo in cui usate la VPN perché la media della lobby è più bassa poi ovviamente la qualità delle lobby varia molto dall'orario da se siete bravi se non siete bravi ci sono più fattori quindi non è una roba scientifica è che la VPN varia in base se avete dei compagni di squadra o meno funzionano peggio se avete compagni di squadra anche se comunque vi abbassano in generale cioè almeno quando gioco con qualcuno con la VPN è noto che le lobby sono un po' più alte rispetto a quando gioco da solo quindi se mettete il completamente e cercate una lobby a caso dovreste avere un vantaggio in più rispetto a se vi fate una squadra di amici ok però soprattutto se giocate tanto spesso con quelle persone però allo stesso tempo vi abbassa comunque le lobby quindi funziona meglio se lo usate da soli ma comunque vi abbassa le lobby anche se siete con degli amici e appunto la VPN secondo me ha senso usarla soprattutto se voi siete bravini ok quindi siete già sull'uno e passa l'uno andante di KD ma spesso e volentieri magari giocate con colleghi con amici che magari sono meno bravi di voi e con voi non si divertono perché le lobby che giocano magari tra di loro perché sono un po' più scarsini sono scarsi come loro quindi sono più bilanciate per loro però quando giocano con voi trovano dei tryharder fuori di testa che li fanno i salterini e non capiscono più un cazzo ci sono canguri ci sono le tutte quelle robe lì no tutte quelle robe che scrivono questa è il spesso e volentieri c'è gente che mi scrive bro ho visto il tuo video sulla VPN ho iniziato ad usarla perché questo in genere è uno dei motivi ok spesso e volentieri e mi dice bella ti ringrazio perché la VPN SBMM off mi ha migliorato le serate con gli amici perché l'SBMM del gioco è molto punitivo quindi se io sono in lobby con te e tu sei più scarso di me molto probabilmente troveremo più lobby simili al mio livello rispetto al tuo di conseguenza la media sarà più alta del solito a cui sei abituato e farai delle prestazioni più basse KD1,70 è basso KD1,76 tra i migliori tra il migliore 20% del gioco brother vuol dire che sei meglio dell'80% dei giocatori di Warzone probabilmente anche più alta probabilmente sei anche già tra i migliori 10% così era su Warzone 1 all'incirca dovrebbe essere la stessa cosa su Warzone 2 la VPN può servire a risolvere problemi di stabilità del ping allora a parer mio io l'ho provata soprattutto nel video che feci su YouTube a riguardo della VPN questo qua lo feci vedere proprio in quel periodo lì un periodo dove praticamente laggavano di brutto e la prima il primo video e in quel periodo lì i server giravano male e se usavo la VPN giravano meglio quindi delle volte girano meglio i server rispetto a non usarla sembra assurdo ma è vero però forse perché si attacca che ne so se usi Kenya si attacca ai server francesi di conseguenza non si attacca ai tedeschi che i tedeschi sono quelli che hanno più problemi credo cioè in genere noi ci attacchiamo a quelli tedeschi a quelli francesi o quelli inglesi quando ci attacchiamo a quelli francesi sono quelli un po' meglio quelli tedeschi sono quelli un po' peggio sono quelli che laggano di più quelli britannici invece abbiamo il 70-80 di ping dovrebbe essere così credo immagino questa è una mia supposizione però non non so niente di fattuale quindi questa è una roba che vi dico io ma non con una certezza che ho su altri argomenti sono ho messo la vpn ho fatto l'accesso ho selezionato il mio server di nigeria insomma quello che voglio io in questo caso userò kenia ok e vado online gioco ok apro code ho acceso la vpn entro su code nella mia locazione geografica vado su account e rete vado su scusatemi informazione di rete e mi trovo a nairobi city kenia ma da nairobi city kenia ho 27 di ping di conseguenza il mio ping non è variato la mia posizione geografica in game è variata ma io penso di pingare come pingo a firenze ho 28 di ping quindi pingo identico al solito probabilmente anche meglio però questa è una cosa aggiungo io perché non lo posso dimostrare non posso parlare di vpn se non l'ho studiata ecco quelle dei console perché non ho non ho la console accesa non ho la console attaccata primo fight piglio una scopata da dark ghost livello 444 siamo in quartetti a shika il bro mi vede chimera mi ha dato una bella scopata la gente spara back andiamo avanti ora definire drago questo avversario no però comunque l1 r1 lo sapeva premere vedete le lobby vpn non significa che sono sempre dei pali e questo lo sapevamo già andiamo avanti ora questo che sto vedendo qua invece mi sembra assomigliare proprio a un ragazzo che becco in vpn ok sembra bello uno che ha appena scaricato il gioco ma che cazzo fa questo è un altro che mi sembra scaricato ora al gioco questo è un altro e mi sembra scaricato ora al gioco lui è quello di prima che si avresti tre volte e direi che è uno che ha appena scaricato il gioco ovviamente se io volessi provare a fare un record non dovrei wiparli cioè non dovrei eliminare la loro squadra in modo tale da farmarmi continuamente le kills su di loro ok ovviamente tutte le lobby presentano dei player scarsi anche le lobby normali non solo quelle in vpn presentano lobby cioè persone scarse come anche gente che sa sparare come un po' tutte le lobby anche le lobby normali ovviamente in vpn le trovi più spesso queste situazioni perché come spiegavo all'inizio della live ti abbassa la media della lobby ok quindi è più facile trovare situazioni del genere anche se anche senza vpn troveresti comunque situazioni del genere perché mi succedono anche senza vpn e gioco 8 ore al giorno senza vpn vi posso assicurare che succedano anche senza soprattutto scusate se giocate in fascia orarie dove c'è meno gente soprattutto se giocate porco 2 accidenta a chi t'ha fatto mattia soprattutto se giocate nelle fascia orarie più basse c'è tipo la mattina cosa del genere soprattutto se giocate tipo occupazione malloppo insomma le modalità dove c'è gente meno forte anche almasra almasra ad esempio è piena di bot secondo me almasra è la modalità una delle modalità più facili di tutte il battle royale normale non ti sparano in sta lobby non so non so sparano in sta lobby Enrico per favore potresti tradurmelo in italiano gentilmente ti prego perché non ce la posso fa se mi stai chiedendo se non sparano in questa lobby però era quello il punto della della live provare dei lobby in VPN questo ragazzo di prima questo come vedete è uno di quei personaggi ok questo è un esemplare di personaggio che non spara back questo probabilmente ha scaricato il gioco oggi ok siti tipo lobby god funziona onestamente non li ho mai provati mi dicono di sì ma non li ho mai provati parlo di ciò che ho provato oggi ok quindi abbiamo visto anche queste robe qua sembrano botte della cpu io raga non ho fatto niente di strano penso che tutti voi potete trovare VPN e trovare le stesse persone che provo io perché nel senso è che faccio una cosa diversa rispetto a voi ho usato una VPN io ad esempio ho la partnership con ho chiesto l'affiliazione scusatemi con entrambe le VPN di cui vi sto parlando oggi perché comunque faccio una mezza marchetta però ad esempio questo qua è un account prestato quello che sto usando ora non è un account mio è di un ragazzo della chat cioè questo è un account cioè non mi potete dire nemmeno vi danno degli account appositi che funzionano solo quelli raga sto usando un account testimonianza di un ragazzo della chat che tra l'altro non glielo ho nemmeno detto oggi che l'avrei usata però quello l'altro rischio poverino ne sto approfittando che me l'ha data tipo due settimane fa perché non connetteva i server senza VPN è successa sta roba qua e mi diede questa VPN qua per provare a entrare e mi funzionò con la VPN quindi pensate ci sono delle volte addirittura che con la VPN risolvete dei problemi del gioco e vi fa gioinare cosa che magari in certe situazioni non vi farebbe gioinare quindi altro vantaggio della VPN ok c'è altre vantaggio che vi può perché vi può accomodare una VPN ecco no no perché non l'ho mai comprata questa VPN raga non l'ho mai comprata è la prima volta è tipo la terza volta che la uso per questo è proprio la terza volta che la uso sta VPN qua però ti diverti quando becchi queste lobby vedi roba assurda però 2-3 game giocare tutta la sera in botta lobby non credo sia divertentissimo su questo black sono d'accordo con te io in questo momento come vi ripeto sto giocando da solo contro quartetti e è più probabile secondo me da solo contro quartetti trovare lobby del genere rispetto a giocare con degli amici secondo me è un po' più probabile trovare lobby facile comunque è tutto a titolo dimostrativo solo per dimostrarvi come funziona altro argomento sono su twitch sono su tiktok sono su pornhub sto guardando uno streamer come faccio a capire se è in VPN allora premettiamo che la lobby non significa nulla cioè voi entrate in una lobby in una partita e vedete uno che sta facendo 50 kill e dite questo sta usando la VPN no sbagliato ci sono delle volte che le lobby facili le trovi anche senza VPN cioè capita soprattutto ora che esistono le ranked perché diciamo i server si sono svuotati di gente forte ok come faccio a capire se qualcuno usa la VPN secondo voi dai bot che non sparano back Zeus no sbagliato gli ho detto non dovete guardare la singola lobby cioè è la prima partita che vedete di quello streamer ok dite questo usa la VPN ovviamente lo potete supporre cioè vedete uno che sta facendo 50 kill in una lobby e la gente non spara back ovviamente potete supporre che abbia la VPN ma per avere la certezza come fate dal ping no sbagliato poi andiamo avanti non hai seguito la live probabilmente sei entrato ora se su 5 partite 4 vecchi tronchi allora potrebbe avere la VPN rock al punto chiedeglielo in chat rischiate un ban da alcune chat perché purtroppo ci sono dei pagliacci perché le lobby si sono svuotate di giocatori forti perché ci sono le ranked tutti i giocatori forti giocano i ranked appunto il miglior modo è guardare più partite della stessa persona cioè vedere se la persona gioca 10 partite che ne so guardare 10 partite vi faccio un esempio potete guardare 4 e questa persona continua a trovare i bot lobby all'infinito le lobby in VPN in genere scendono meno del solito perché perché succede questo perché meno persone forti ci sono in lobby meno persone verranno uccise quindi le lobby se sono molto alte in genere se c'è tanta gente nella partita in genere sono lobby più scarse del normale quindi più gente c'è in lobby durante il tempo e più diciamo le lobby sono scarse quindi meno scende velocemente la lobby più la lobby è scarsa questo succede anche nelle lobby normali ok succede in tutte le lobby che sia con la VPN che non sia con la VPN cioè è la distinzione tra una lobby facile e una lobby difficile se vedete una lobby difficile che scende è una che scende velocemente e anche una lobby magari con all'interno di cheat allora come faccio a riconoscere se una persona ha la VPN o meno devo guardare un tot di partite perché da una partita sola raga non lo potete vedere se vedete una clip raga non significa una clip su tiktok io ragazzi vi faccio questo discorso perché una volta mi è salito il sangue al cervello ve lo giuro che c'era Andy Redd che ha fatto un torneo con me contro una lobby europea dove abbiamo vinto in una lobby europea e americana di soli pro player con qualche team magari un po' meno scarso degli altri però comunque c'era Lennon c'era Juked c'era Italian Demons c'era quello quell'altro c'era roba di vi parlo di marzo all'incirca quindi Andy che fa un tiktok dove sponsorizza un mp5 e dice la build dell'mp5 e uccide solo pro player ok in off timing ma uccide solo pro player ok la gente la gente nei commenti c'erano 40 commenti 38 erano usi vpn non è normale sta roba raga 38 persone nei commenti hanno scritto ad Andy che lui usava vpn in una lobby privata di soli pro player quindi rendetevi conto che dalle clip non potete capire un cazzo ovviamente si ci sono dei personaggi che mettono tutti i giorni delle clip sui bot quindi state tranquilli che quelli sono gente che usa la vpn però vi posso assicurare che da una clip non ci capite nulla quindi io prima di commentare vpn sotto un post di tiktok prima ci penserei ok quindi questa è un'altra discussione e guarderei magari le persone che sono state uccise ok l'altra cosa che potete vedere però questa in realtà non è sicura come roba è quella che vi ho fatto vedere poco fa all'inizio ovvero premere far premere start allo stream oh dimostrami che non usi la vpn se vi interessa perché comunque ci sono streamer che ne so che ammettono usare la vpn che vogliono utilizzare la vpn che usano la vpn e che non hanno problemi a dirvi che la usano ok ci sono più streamer che lo fanno zyro usa la vpn zyro è uno che dice usa la vpn ok l'altra è semplicemente aprire informazioni di rete e far vedere la posizione geografica ok questa è la cosa banalissima che però può essere un po' alterata ci sono dei metodi per non farla vedere da OBS ci sono dei metodi per non farla vedere però era boh cioè nel senso non c'è niente di male a usarla infatti stiamo argomentando per spiegare come funziona e perché viene usata eccetera eccetera esatto è a proposito non c'è niente di male a utilizzarla allora appunto come vi spiegavo prima perché uno streamer ok perché uno streamer che è bravo che sa giocare che sa sparare dovrebbe usare una vpn o usa una vpn allora di base gli streamer che usano una vpn la usano perché cercano di portare contenuti tutti i giorni su youtube dove fanno tante kill principalmente ad esempio uno mi viene in mente inglese zyro e sono comunque dei bei gameplay anche se lo usa la vpn onestamente le lobby sia siano bottazze comunque è bello da vedere è un bel player al di là di tutto è comunque forte al di là della vpn perché spesso e volentieri questi player coincidono con streamer che vogliono fare contenuto streamer che vogliono fare contenuto chi sono? per le persone che parlano molto con la chat che interagiscono molto con la chat che argomentano parlano si divertono scherzano vogliono chillare quindi persone che non volgono il loro contenuto principalmente sul tryharding ok? che ne so mi viene in mente un amico che streama con la vpn molto spesso è magma magma usa vpn dice di usare la vpn sponsorizza la vpn che usa quindi lo ammette dice che usa quella vpn quella determinata vpn vi dice il serve vi dice tutto e lui il suo contenuto non è volto solo al tryharding è un ragazzo forte che gioca bene ma il suo contenuto principale è lui che gioca si diverte e chiacchiera con la chat ok? quindi lui non rompe il cazzo a nessuno ci sarà ovviamente le persone che criticheranno chi usa la vpn perché dicono rovini le partite agli altri cioè tu usi un sistema per trovare dei bot e rovini le partite agli altri ci sta c'è che vi devo dire non vi può dire niente nessuno nel senso ci sta è vero non vi può dire niente a nessuno allo stesso tempo però non c'è nessuno qua a prendervi per il culo cioè basta dirlo che uno usa la vpn e non c'è niente di male secondo me poi chi ha in testa sta roba qua che secondo loro dovini le lobby le partite io che ho 020 di kd mi devo trovare te in lobby raga ci sta però la verità secondo me è che generalmente le persone che hanno che si lamentano spesso e volentieri sono persone che mi troverebbero a priori della vpn o meno perché ad esempio se io utilizzassi la vpn continuamente perché io non la uso continuamente perché più spesso gioco ranked spesso gioco vondel il livello di vondel è abbastanza basso anche senza vpn non ho bisogno della vpn e non la uso spesso secondo me le persone che si lamentano generalmente sono persone che incontreresti lo stesso perché generalmente l'SBMM di questo gioco è molto punitivo come vi spiegavo prima se voi avete più di uno di kd non vi potete lamentare perché è il gioco che funziona così chi ha 060 030 di kd probabilmente non se ne accorge nemmeno di aver incontrato qualcuno che è così forte quindi state tranquilli che non è la vpn che vi rovina le partite se avete uno di kd questo è il mio pensiero non è un pensiero oggettivo è il pensiero che ho sviluppato nel corso degli ultimi tre anni quindi anche chi mi scrive nelle ranked bro sono gold come faccio a trovarti che sei iridescente top 250 brother è il gioco che ha l'SBMM che funziona così non ci posso fare un cazzo perché anche lì la vpn non funziona cioè non può funzionare quindi mi trovi lo stesso ok quindi questo è un discorso che dico io il discorso è sempre lo stesso una persona normale che usa la vpn per fare 50 kill come chi non sa giocare se è abituata a farne tre a partita al massimo può fare 8 o 10 non 50 esatto io per esempio sono platino 2 e ti ho incontrato e mi hai trombato tu che sei platino 2 sei forte per il gioco tu sei al mio livello è come ragione al gioco per il gioco se tu hai più di 1 e 10 di kd all'incirca sei forte quanto me è così che funziona il gioco raga a grandi linee non ha senso può darsi non vi biasimo però è così che funziona il gioco call of duty per chi ci gioca da più tempo come me è sempre stato in realtà è sempre stato così ma era peggio cioè per i bot per le persone non brave ok era peggio nel senso che scusatemi se vi definisco bot ma è per parlare per argomentare in modo chiaro e veloce e rapido non voglio offendere nessuno si può essere scarsi al videogioco non è un problema non è quello il problema scusatemi se uso dei termini per velocizzare la mia spiegazione prima kod non aveva svmm per cui le lobby venivano generate completamente a caso ma comunque quindi potevi trovare delle lobby facilissime come delle lobby difficilissime a caso senza come prima oggi diciamo che è molto punitivo per le persone sopra l'uno di kd perché non c'è un intermezzo raga cioè tra sei bravino e sei forte non esiste cioè tra sei sei giocare e sei forte non c'è un intervallo cioè sai sparare sei forte non c'è un intervallo secondo me in realtà l'unica cosa che non ha senso è che se io sono iridescente non posso fare team con uno che è pratico in tutte le rank tutti i giochi se full il party puoi giornare come vuoi a parte che sto usando la tua vpn zari puoi ovviamente testimoniare che io sto usando la tua vpn che me l'hai prestata a te che io non l'avevo mai acquistata o sto usando la tua vpn a tua insaputa app tracker per inviare il mio kd non esiste su sto gioco quindi puoi testimoniare che non ho una vpn speciale io ma sto usando una vpn di uno di voi quindi è una vpn normalissima almeno che c'è qualche complottista io lo posso specificare l'unica cosa che non ha senso è che se sono iridescente devo far team con uno che è platino non posso far team con uno che è platino in tutte le rank di tutti i giochi se full i party puoi giornare come vuoi questa perché viene fatto a parte che non evita comunque il problema ma se tu sei iridescente e mi giochi con un platino è ovvio che il platino verrà carriato ok quindi evitano il boosting degli account anche se io che sono iridescente posso prendere cambiare l'account mettermi un account bronzo e giocare con un bronzo e carriare un bronzo ma questo è un altro discorso quindi lo fanno per un discorso di boosting e anche un discorso di buonsenso perché vi faccio un esempio molto sensato secondo il mio punto di vista se io sono top 250 e ho 14.000 punti come la mia scorsa stagione e perdo 180 punti ok va bene io perdo 180 punti a partita io non sono invogliato a giocare con qualcuno che è cremesi perché la persona che gioca con me ed è cremesi non metterà mai l'effort che mette uno che perde 180 e farà cazzate io per esempio ho giocato un paio di volte con con kibiz cremesi che è un ragazzo fortissimo e molto bravo però ho perso punti perché andrea vedeva positivo e andava a pushare 1v3 e io mi incazzavo perché andrea non lo capiva perché lui leggeva meno 80 ma io leggevo meno 180 andrea andava a pushare e io non volevo pushare perché volevo arrivare fino in fondo 100% lui ovviamente giocava in modo aggressivo e mi moriva oppure non pushavo con lui e morivo perché esitavo a voler pushare ma quello solo decisione in game se tu sei top 250 e perdi 180 punti è diverso da essere cremesi e perderne 80 come è diverso essere cremesi e perderne 30 quindi anche buon senso e giocare con un platino che ne perde 30 è anche buon senso quindi giocare con gente del proprio livello su warzone siccome l'utenza non è tantissima in primo acchito quindi fare una lobby bilanciata con 150 persone sarebbe impossibile ok perché metti una lobby di top 250 eridescente e cremesi per farvi un esempio quanto ci metterebbe a crearla quanti cremesi eridescente trovate in lobby pochissimi quante persone eridescente e cremesi top 250 ci sono al mondo una percentuale misera di conseguenza i tempi di attesa sarebbero lunghissimi e di conseguenza non troveresti lobby se le lobby fossero bilanciate ovviamente troveresti lobby se tu fossi bronzo argento e oro ma non troveresti lobby ad altri livelli quindi cosa hanno pensato dato che comunque l'utenza di warzone è limitata non è un'utenza infinita come può essere quella di league of legend e league of legend ad esempio ha che è un gioco molto bilanciato tra virgolette poi anche lì ovviamente ci sono i difetti non mi addentro in quell'ambito perché se no non finiamo più perché su league of legend è più facile fare una lobby bilanciata poi che magari non succede nemmeno perché anche lì c'è lo smurfing eccetera eccetera perché sono 10 giocatori perché l'utenza è enorme è infinita e di conseguenza hanno un bacino d'utenza master quello quell'altro che può sto sto pushando attila l1 ita a posto quindi per dirvi che nella vpn ovviamente anche l'altra risposta nella vpn si trova gente italiana ovviamente anche se sono anche se sono connesso al kenya e di conseguenza è più facile creare delle lobby bilanciate come anche su apex che magari le lobby sono da 60 70 insomma avete capito come funziona questo gioco il sistema di punti è pensato in modo tale che te devi farmare gente cioè tu devi massacrare gold platino diamanti e così via perché in genere se sei top iridescente non trovi gente bronzo e argento in genere trovi gente dal gold in su se vedete qualcuno top 250 uccidere un bronzo in genere è un bug perché noi i bronzini non li troviamo i bronzini giocano nelle lobby dove trovano al massimo i gold credo e comunque non sono lobby facili perché io ho giocato bronzo e le lobby non sono facili ve lo dico ve lo assicuro che ci sono morto 20 volte non sto facendo un'imitazione è vera sta cosa mi è venuta a casa questa voce ciao roads questa live è stata molto interessante io non capisco una cosa e ti pongo questa domanda un record fatto in vpn può essere considerato veramente un record nel senso un giocatore professionista di poker per fare un esempio non può giocare in torneio contro gente amatoriale in questo caso un record fatto così è veramente un record e questa ti do una grande spiegazione le lobby di warzone con o senza vpn sono casuali perché comunque di che tu abbia la vpn e tu non abbia la vpn trovi comunque delle bot lobby perché comunque anche se tu per esempio ti faccio un esempio roads io domani mattina mi sveglio alle 6 di mattina ok e attacco la live io la facevo spesso su reberts attacco la live alle 6 di mattina e traiardo e mi metto a voglio fare il record di vondel 70.000 kill ok voglio fare il record di 70.000 kill su vondel e mi attacco alle 6 di mattina secondo te che lobby trovo? secondo te troverò gente forte? non trovo nessuno trovo bot quindi ti chiedo hanno senso i record o sono solo per il meme e per il content? hanno un valore i record? è questa la domanda che ti dovresti porre non vale un record con la vpn o non vale un record con la vpn è diverso perché che tu utilizzi la vpn o che tu non utilizzi la vpn approfitti comunque del fatto che ci siano dei bot ok? solo per il meme esatto cioè tanto per dire ho fatto il record volevo gasarmi per fare più kill possibili anche perché non hanno un premio economico esatto cioè il premio economico ovviamente è l'hype e fare un contenuto su youtube e magari ti porta visualizzazioni ti porta soldi però in sé sponsorizzazioni sub su twitch e così via però in sé questa è una cosa che esisterà sempre su cod il il pub stomping ovvero cercare di fare più kill possibili ok? quindi distruggere le pubbliche è una cosa che esisterà sempre su cod e già allora si usavano le vpn tre anni fa quattro anni fa quando ancora non esisteva wordzone già allora ci si svegliava alle sei di mattina per provarli e si faceva il video su youtube quindi ti dico la tua affermazione secondo me la domanda è posta è dovresti portarla in un modo diverso perché un record con la vpn e un record senza vpn hanno lo stesso valore non cambia nulla perché alla fine approfitti sempre di gente più scarsa di te quindi non anche il commento il real madrid va a giocare contro i pulcini della fiorentina o del del bangladesh non non vale niente perché il gioco ti permette di farlo se il gioco ti permette di farlo vpn o meno non hanno senso i record e sono solo per niente cioè sono così i record sono il nulla perché la gente forte non è la gente che fa i record anche se secondo me i record spesso sono belli da vedere sono divertenti da vedere perché si fanno un botto di kill e la gente si diverte a fare tanti kill perché banalmente entra nelle lobby ne fa 10 e vedere uno ne fa 70 ti esalta sempre perché bene o male ti esalta anche farle 70 perché comunque è vero che ne fai che fai 70 persone più scarse di te a parte ne le fai comunque anche se ne fai 10 sono tutti più scarse di te se io entro in una lobby il 100% della lobby è più scarsa di me perché perché gioco 8 ore al giorno e loro no sono parte dello 0,1% dei giocatori di warzone però non perché sono un fenomeno ma perché gioco 8 ore al giorno c'è gente più forte di me la vpn comunque sposta solo la location non credo vada a falsare il record il record non lo falsa dal momento in cui le lobby sono comunque bot con o senza vpn ma fare record con vpn è più facile perché tu hai più possibilità di fare record cioè se io entro in lobby e trovo 20 lobby bot o ne trovo una in una giornata intera è normale che io che ne trovo 20 con la vpn abbia più probabilità di che ne so blade di fare un record perché blade ha un'occasione di una botte lobby in 4 ore e io ne ho 20 ecco perché ad esempio io mi incazzavo ai tempi di verdansk perché ai tempi di verdansk c'erano delle competizioni chiamate kill race dove tu ti buttavi con la tua squadra in lobby e giocavi delle partite pubbliche normali e il dovevi giocare a fare più kill dell'altra squadra questi tornei kill race facevano incazzare perché su verdansk non esistevano quasi le private o anzi nel primo periodo non esistevano proprio e questi tornei li vincevano sempre le persone che utilizzavano vpn e riuscivano a nasconderle finché non le hanno bannate ma poi comunque c'erano delle persone che avevano lobby facilitate perché ad esempio erano white listate da activision e vincevano i tornei per questo motivo qua anche persone che magari erano insaputa del fatto di essere white listate da activision che è una roba folle perché activision non specifica se sei white listato per le lobby quindi trovi lobby più facili c'è un un tweet di faceblow che diventò twitch activision partner ai tempi di verdansk e da un giorno all'altro si trovò in lobby 060 costantemente senza saperlo quindi raga anche gli streamer che per dire trovavano lobby 060 continuamente senza la vpn esistono perché erano stati white listati da activision senza nemmeno il loro content come dico consenso non so più parlare ragazzi tre ore sto parlando di fila a dritto quindi assurdo se blade si sposta a vivere in egitto non può fare record bravo allora ad esempio vi faccio un esempio i twitch rivals ve li ricordate quelli di verdansk chi è che li vinceva recrent ok il russo i primi killer i primi twitch rivals in kill race erano appunto in kill race quindi erano in pubblica i russi non hanno sbmm non avendo sbmm recrent ha vinto qualcosa tipo 60.000 dollari nel giro di due twitch rivals vincendo tutti i tornei perché lui giocava in delle lobby che erano scandalose rispetto agli italiani rispetto ai francesi rispetto ai tedeschi e mink aveva 52 kill nel chilling nelle lobby su verdansk quando in italia il record probabilmente era 30 perché perché loro avevano una vpn naturale e loro però hanno incassato 60.000 euro magari cioè se andate a vedere i soldi che ha vinto recrent ai tempi di verdansk vi prendete male perché è ancora una delle persone che ha guadagnato più soldi su warzone e se recrent ha fatto tutti questi soldi è perché aveva una vpn naturale si vero però aspetta recrent se non sbaglio ne vinse anche due in privata si 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 è vero rodman è assolutamente vero però è anche vero che i tornei kill race non li potevi vincere perché il recrent li vinceva perché non non c'era c'era un abisso di kill al di là del fatto che lui fosse anche più forte in privata i tornei in pubblica non erano possibili non era possibile vincerli a priori perché le lobby russe sono una vpn naturale cioè era impossibile vincerli anche al di là che il recrent abbia vinto per merito anche dei tornei in privata che poi non ha più vinti nemmeno uno perché ovviamente poi il meta è diventato il pad e il mouse e tastiera player loro erano tre mouse e tastiera player che erano fortissimi ma ovviamente il meta è diventato il pad e non ha più vinto nulla ovviamente il recrent è entrato a quel momento lì cosa è successo? è successo che le loro lobby in pubblica loro erano troppo più facili perché avevano la vpn naturale hanno vinto 40.000 dollari al di là del fatto che lui fosse forte anche in privata ma se uno la prova per curiosità che ormai sono curioso è sicuro che non è bannabile è sicuro che non è bannabile non è shadow bannabile non è nulla è tutto legit perché il gioco lo permette quindi è legit quando ciò che viene permesso dal gioco è legit è legit al di là della gente che wallhacka e il gioco non lo rileva però quello non dovrebbe essere permesso ma quello è un altro discorso quello è un altro discorso quello lì si fa su altri discorsi competenze diverse e anche complissità di risolvere una piaga che è quasi impossibile da risolvere in termini un pochino più oggettivi mamma mia il drago finale comunque oh cioè non sono lobby hyper easy cioè la gente mi sta in prime cioè questa non è una lobby super easy oddio ho finito di dirlo trap vaticano generalmente funzionano meglio in singolo o comunque con riempimento rispetto a che se fai entrare amici in party io credo sia legato ve lo spiego ma non sono sicuro di ciò quindi questa è una mia supposizione io credo sia legato al fatto che lui consideri te e lui un team cioè siete delle persone che giocano spesso insieme il fatto che tu giochi spesso insieme a una persona implica che ci sia feeling di gioco per il gioco ovviamente queste sono supposizioni del gioco e che di conseguenza ti alzi sbmm infatti se tu io mi ricordo su verdansk l'esempio che io non usavo spesso la vpn su verdansk io mi ricordo perfettamente che spesso e volentieri giocavo con gente con la quale non avevo mai giocato prima perché iniziavo a fare le mie prime amicizie su twitch quindi altri streamer altri player forti e così via e quando giocavo perché ai tempi non conoscevo così tanta gente però iniziavo comunque a essere un po' conosciuto e quindi mi cercavano comunque cercavo io anche altri streamer con cui giocare e streammare quando streamavo e giocavo con gente nuova spesso e volentieri la prima lobby era bottissima e una cosa che secondo me è fattuale che accentua questa roba qua è il giocare wager non so se avete presente no? le wager quando giocano 2v2 1v2 o 1v1 spesso e volentieri quando due persone non giocano mai insieme si incontrano per la prima volta in wager che ne so io ad esempio mi succedeva spesso con gli spagnoli quando io giocavo con gli spagnoli raga trovavo delle botte delle lobby bot che non trovo neanche in vpn giuro su dio secondo me è legato a questo fattore qua quindi cioè sentite quante variabili ci sono per far si che un record non abbia valore perché l'sbmm può essere talmente tanto aggirato che è folle come roba anche giocare con magari gente più scarsa di voi vi abbassa l'sbmm ad esempio cioè vedete che la vpn non è il male cioè ci sono mille modi per aggirare l'sbmm capito più più ne parlo più vengono fuori gli argomenti parlandone con voi cioè più è ridicolo un record capito la prima partita insieme non ha mai funzionato perché appunto ti ho detto che magari è una persona con cui giochi spesso e quindi l'sbmm con lui ti si alza perché se tu giochi spesso con una persona ti si alza l'sbmm e sono morto non sono morto perché lo è scarso gg